non c'è si può uscire oggi oh mamma mia no lucarie non si esce capite che non si può ah il decreto non l'ho creato io l'ha creato il premier conte perciò ti ha rassegnato capite non si esce non si esce non si esce ah cioè io ti ho sentato la mazzata in capo che maniera ho domandato se si poteva uscire come sei aspra che cos'è la quarantena ti ha fatto aspra come c'è l'autocertificazione l'hai stampata tu cari e in questo momento mi sono alzato capite se credete che io mi debba vestire e fare la diretta instagram mi vesto altrimenti ecco qua ci mettiamo qua e aspettiamo gli ordini del il signor sergio mattarelle che comandato non l'hai stampato no e ieri sera che ti dice domani mattina fammi un piacere stampo le foglie prima mi fa un caffè perché se no non posso uscire e andare a comprare la mochina abbiamo capito abbiamo capito andiamo a stampare l'autocertificazione se no qua non si ragione stamattina mangiamo foglie ecco qua l'autocertificazione l'andiamo a stampare siete servite e riverite noi andiamo a stampare l'autocertificazione si vecchio concetto si è fatto vecchio si è fatto puoi che fa magari da mietta da un quarantena tossisci in camere non ne parliamo più perché io ho paura un e nilla che in casa o b non posso migliorare responsabilità ma c'è mietta ma c'è mietta ma c'è mietta non vi preoccupate ve lo tolgo il fastidio chi è se venne la mascherina mia prima che io moro aspetta che muoio e poi te la vendi no ma che copasca ma chi è lui che dispone che cosa significa se venne a robare la casa che ho paura tu sei mio fratello la mascherina tua aspetta a me ma chi se l'ha da mettere sta mascherina chi ma mettetevi d'accordo misericordia io mi trovo in mezzo agli appestati mi trovo io mi trovo Grazie a tutti.